Un impegno rivolto ai grandi temi come quelli dei diritti umani e della lotta al femminicidio, ma soprattutto rivolto al territorio in una fase politica complessa e di non facile gestione. Possono riasumersi così i primi mesi della senatrice del PD Assuntela Messina in Parlamento, mesi di lavoro che troveranno compimento nella nuova stagione politica che sta per prendere il via. Mesi di grande impegno, di grande volontà, soprattutto perché la situazione è una situazione che conosciamo tutti essere molto complessa. Di fronte a questa complessità comunque il massimo impegno da parte nostra, da parte mia in particolare, mi piace ricordare un mio intervento per quanto riguarda i diritti umani, vista l'istituzione della Commissione per i diritti umani e prossimamente l'11 settembre un mio impegno particolare insieme ovviamente ad altri firmatari per l'istituzione di una commissione sul femminicidio e quindi sulla parità di genere. Ovviamente tutti questi impegni vanno ad inquadrarsi in un ragionamento più complensivo che mira soprattutto a una attenzione specifica a quelli che sono i problemi del nostro territorio all'interno poi del ragionamento nazionale. Poi come segretaria e soprattutto quindi come componente dell'ufficio della Commissione Ambiente e mia premura e mia attenzione è guardare a una specificità di questioni che riguarda il nostro territorio e che meritano attenzione e soprattutto urgenza nella soluzione. Le specificità del territorio che l'ha eletta con il sistema proporzionale lo scorso 4 marzo saranno dunque al centro dell'attenzione della senatrice in qualità di componente della Commissione Ambiente. Nonostante la collocazione all'opposizione del PD, partito del quale è presidente regionale, Assuntela Messina si dice pronta a operare svolgendo il proprio ruolo con intelligenza e al servizio del Paese. Questo sempre perché penso che il ruolo dell'opposizione sia quello di vivere con intelligenza il proprio ruolo e quindi l'opposizione deve avere questa capacità e questa forza dialettica comunque di non solo partecipare alla discussione ma inserire nella discussione tutti quegli elementi che possono essere costruttivi, che sono costruttivi e che possono avere una ricaduta importante. Io penso che comunque l'opposizione non debba mai limitarsi solo a una forma di ostruzionismo o di contestazione ma proprio inserire degli elementi che all'interno della dialettica politica possono offrire anch'essi un contributo. Se portati poi in un certo modo con coerenza, con onestà e soprattutto con competenza ci auguriamo che possano essere raccolti e trasformati in un'idea di sviluppo per il nostro territorio e per la nostra nazione.